Scoppi e boati nel cuore della notte per alcuni degli abitanti del residence Flaminio in via Goldoni a Fano, quella a cavallo tra venerdì e sabato non è stata una nottata propriamente tranquilla. Un'auto parcheggiata nell'area condominiale del garage porticato, un Audi Q5 di proprietà dell'ex primario radiologo del Santa Croce, Carlo Amodio, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti ha preso fuoco ed è stata in breve tempo completamente avvolta dalle fiamme. Alle 4.40 del mattino arrivano nel complesso condominiale i vigili del fuoco che incominciano subito il contenimento delle fiamme che già erano ben sviluppate e contengono così di molto i danni collaterali dell'incendio che nonostante ciò ha danneggiato pesantemente altre due auto parcheggiate nei paraggi e causato ingenti danni alla struttura. Il fumo infatti ha anerito un'ampia parte del porticato ed inoltre l'acre fumo ed enso ha invaso anche i locali di alcuni uffici posti al primo piano della struttura proprio sopra il SUV andato a fuoco. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco le alte temperature creatisi hanno presto fatto esplodere i pneumatici delle auto interessate dal rogo e proiettato a distanza di diversi metri le sospensioni dell'auto che sono esplose e schizzate via come scheggi impazzite. Uno scenario apocalittico al quale hanno assistito i condomini che sono stati svegliati di soprassato dal trambusto e dai forti bolli. Al momento però si esclude la causa dolosa non essendo state trovate sul posto tracce evidenti di acceleranti o di sostanze sospette facendo quindi rientrare il caso nella fatalità dovuta forse a una causa accidentale proveniente probabilmente dall'impianto elettrico dell'auto. Sul posto o tra le squadre dei vigili del fuoco anche una pattuglia dei carabinieri di Fano che hanno eseguito gli accertamenti del caso.